Benefici del seme di papaya I semi devono essere asciugati al sole e poi utilizzati. Gli esperti hanno dato molti suggerimenti sul modo in cui i semi devono essere presi. Benefici per la salute dei semi di papaya Ora che sai come mangiare i semi di papaya, ti starai ancora chiedendo perché dovresti. Per cominciare, i semi di papaya contengono alti livelli di acido oleico e palmitico. Entrambi si ritiene che contribuiscano a proteggere il tuo corpo dal cancro. Nella medicina tradizionale cinese e giapponese, i semi di papaya vengono utilizzati per disintossicare e rafforzare il fegato. Si ritiene che i flavonoidi presenti nei semi di papaya aiutino a prevenire la diffusione di germi e siano anche pensati per proteggere i reni. In uno studio condotto su bambini nigeriani, il 76,7% dei bambini si è sbarazzato dei parassiti intestinali dopo aver consumato semi di papaya al giorno per una settimana. Malattia del fegato I semi di papaya contengono nutrienti vitali che aiutano a guarire la cirrosi epatica. Prendi 5 o 6 semi di papaya essiccati e macinali o schiacciali e prendili con cibo o succo di frutta, specialmente il succo di lime, falle ogni giorno per 30 giorni. E alcune persone hanno risultati sorprendenti nella guarigione della cirrosi epatica con semi di papaya. Inoltre, i giapponesi credono che prendere un cucchiaino di semi di papaya ogni giorno possa proteggere il fegato dalle malattie. Oss è forti I semi di papaya piacciono anche a tutti gli altri semi di frutta, che sono ricchi di calcio e proteine. Assumere regolarmente i semi di papaya porterà benefici per la salute del corpo come ossa più forti e muscoli più forti allo stesso tempo. E' anche perché il nostro corpo ha bisogno di consumare calcio e proteine per far crescere ossa e muscoli, e quei calcio e proteine possono essere derivati dal consumo di semi di papaya. Rimuove la pelle morta I semi di papaya aiutano a rimuovere la pelle morta sul viso e rimuovere lo sporco dell'interno. Essere ricco di vitamina aiuta a tirare fuori la pelle morta, generare le nuove cellule e sostituire la cellula danneggiata. Mescolare alcuni semi di papaya nel macinino e aggiungere alcune gocce di limone sulla pasta. La consistenza deve essere spessa che rimanga bene sulla pelle. Applicare la pasta per 10-15 minuti e lavare con acqua fredda. Fertilità Vari studi e ricerche decennali hanno dimostrato che consumare papaya con la giusta dose di assunzione può aumentare notevolmente la produzione di sperma per un uomo. Funziona allo stesso modo anche per le donne, dove mangiare semi di papaya può aiutare a mantenere la fertilità delle uova delle donne. Parassiti e vermi I semi di papaya contengono una capretta alcaloide che uccide i vermi intestinali e parassiti dell'ameba. E il frutto della papaya aiuta ad abbattere le proteine e rende così il tratto gastrointestinale un posto ostile per la vita dei parassiti. Gli studi dimostrano che bere succo di papaya per 7 giorni ha aiutato i bambini in Nigeria a sbarazzarsi di parassiti il 75% delle volte. Riduce lo stress I semi di papaya sono ricchi di vitamine e minerali che possono ridurre lo stress. La vitamina C, in particolare, ha proprietà antistress. Aiuta il corpo a mantenere un sano flusso di ormoni dello stress. Quando mancano alcuni minerali e vitamine, il corpo lotta per svolgere le sue funzioni quotidiane, tra cui la digestione, la pulizia, il flusso sanguigno e molti altri. Questo porta a stress interni. Tuttavia, mangiando semi di papaya e seguendo una dieta equilibrata, è possibile ridurre i livelli di stress e mantenere le normali funzioni. Prevenire il cancro I semi di papaya sono ricchi di antiossidanti derivati da fenoli e flavonoidi. Entrambi i composti svolgono un ruolo importante nel prevenire la crescita delle cellule tumorali. Inoltre, il contenuto di isoziocianato di fitonutrienti è noto per prevenire il cancro al colon, alla prostata, ai polmoni e al seno. Grazie per l'attenzione.